Un altro presidio è importante perché noi voglio ricordare a tutti che rappresentiamo le mense scolastiche universitarie che diciamo che da fine febbraio sono ferme con gli ammortizzatori sociali. Ammortizzatori sociali insufficienti, inadeguati e che arrivano in ritardo. Dobbiamo aggiungere a questo la sospensione estiva che non è retribuita e l'incertezza del futuro che si ha a settembre con la riapertura delle scuole o dei presidi. Oggi noi alla regione chiediamo di dare un sostegno, esistono dei fondi europei che la regione Liguria si deve impegnare a dare a queste lavoratrici per un sostegno a reddito.